4 milioni di italiani fanno parte di un'organizzazione settaria. Ma che cosa è un culto distruttivo e come si riconosce? Quali sono i campanelli d'allarme e i meccanismi manipolativi che vengono messi in atto? Ne parleremo il 13 aprile a Lucca, presso il complesso di San Francesco nel convegno Organizzazioni Settarie e Manipolazione Mentale, organizzato dalla Fondazione BRF Onlus, cui interverranno psichiatri, psicoanalisti, psicologi e filosofi, ma anche avvocati e magistrati per fornire un quadro preciso e aggiornato della attuale situazione italiana. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.fondazionebrf.org e sulla nostra pagina Facebook. A presto!